Le briccole e i pali che delimitano i canali interne della laguna sono opere di segnalamento importantissime per la sicurezza della navigazione. L'area sud della laguna, delimitata a nord dal collegamento stradale translagunare, presentava serie criticità per la sicurezza dei pescatori che in quell'area gestiscono più allevamenti e che innumerevole volte ne avevano segnalato la pericolosità. Il consigliere regionale Marco Dolfi informa che dopo le varie sollecitazioni provenienti dal mondo della pesca cultura è stato segnalato al magistrato Reacque che è l'ente competente e si è attivato ed è in corso l'intervento per la sostituzione delle opere di segnalamento deteriorate. Parte dei pali sono già state installate nei punti che avevano maggior necessità. Sono contento del risultato dichiara il consigliere Dolfi potrebbe sembrare una cosa banale ma se manca la segnalazione del canale e si finisce in secca le conseguenze possono essere anche molto gravi. Grazie a tutti!